È un'attrazione fatale. Sono aperte le iscrizioni per il ventesimo corso base nazionale di medicina delle migrazioni. Il corso, coordinato da operatori di esperienza pluriennale nel campo della sanità delle migrazioni, è indirizzato a medici, personale infermieristico, assistenti sociali, operatori sociosanitari, mediatori culturali e altre figure professionali interessate a migliorare le loro conoscenze nella medicina delle migrazioni. La didattica punta alla riduzione delle barriere conoscitive, relazionali e organizzative per favorire un reale esercizio del diritto alla salute per tutti. Il corso vuole essere anche un'occasione d'incontro tra diverse realtà ed esperienze per pianificare un cammino di integrazione in campo sanitario. La provincia di Latina promuove un bando aperto per la concessione di benefici economici per attività che prevedono l'erogazione di servizi a valenza sociale sul territorio provinciale. I progetti devono attuarsi entro il 2012 e prevedere queste tipologie di iniziative. Diffusione della cultura della solidarietà, dell'integrazione, della prevenzione, del volontariato e della cooperazione sociale. Attività legate alla promozione dell'integrazione sociosanitaria dei servizi. Azioni in favore di soggetti deboli. Convegni, seminari, mostre e aventi come finalità la promozione della solidarietà, della cultura dell'integrazione, del volontariato. Attività rivolte ai giovani per favorire la prevenzione del disagio, delle dipendenze. Interventi di contrasto alla pedofilia. Interventi per la diffusione della cultura della mediazione familiare e dell'affido familiare. L'AGC Lazio, con il contributo della Camera di Commercio di Roma, realizza corsi gratuiti di formazione imprenditoriale rivolti ai cittadini immigrati. I corsi offrono conoscenze utili alla creazione e allo sviluppo di imprese, con particolare riferimento a quelle cooperative. L'obiettivo è stimolare il livello di managerialità degli aspiranti imprenditori e di coloro che operano già in un'impresa. Il corso avrà una durata di 30 ore e tratterà diversi argomenti, tra cui educazione civica, il testo unico sull'immigrazione, le società e la riforma del diritto societario, il bilancio e la gestione di un'impresa, la società cooperativa, la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, i finanziamenti pubblici a sostegno delle imprese e delle neoimprese, i contratti di lavoro, il business plan e lo start-up della neoimpresa. Gli interessati possono prenotarsi compilando la scheda scaricabile dal sito web www.agclazio.it